un giornale, un quotidiano, il giorno, via dicendo, che pubblicano questa notizia in modo serio, una notizia serissima, ovvero del sindaco Piddino, lo ricordiamo, Piddino Sala, che parla delle buche a Milano, dei veri, come alle mie spalle qua, dei veri propri crateri per strada nelle strade di Milano, che mi hanno detto in tanti che sono messe veramente da panico. E ovviamente la colpa di chi è? Non è la colpa, attenzione, non è colpa della manutenzione fatta male, non è colpa dei materiali scadenti, dei mesi e mesi di lavori fatti, non fatti, fatti, rifatti, strafatti, rifatti, strafatti un po' come loro, no, è colpa, è colpa, le buche a Milano sono colpa, attenzione, del cambiamento climatico. Attento che state collegati per leggere insieme questa notizio, la notizia ogni tanto sdrammatizzare un po' da quello che succede intorno a noi, anche perché l'algoritmo sennò si indispetisce, non mi manda in onda le notizie, mi banna e mi nasconde. Quindi per evitare di essere nuovamente nascosto, come in questo momento, oggi proprio non mi vogliono bene, mi hanno evidentemente ribloccato, ribloccato, io attendo voi in tutti i modi, vanno in perterrito avanti con le mie notizie. In questo momento vedo zero collegati, amici, zero collegati, incredibile Facebook, sempre meglio, saluto gli amici di YouTube, il video è su YouTube, per fortuna su X e su YouTube, mentre Facebook mi sta facendo vedere, zero collegati, zero zero zero, questa è una cosa che ha veramente degli incredibili amici. Quindi attendiamo, attendo lo stesso qualche istante, in perterrito vado avanti nelle notizie, soprattutto in queste, ciao Susi Mix, io ci sono, ne vedo una, vedo per ora buon pomeriggio, sì di certo, come dire che gli asini volano, Giannina, Giannina Cocco, hai perfettamente ragione, ogni dubbio amice è più che lecito. Intanto veramente non sto vedendo collegati, non riesco a capire neanche se ci sia effettivamente qualcuno collegato, sembra che ci sia un ban totale dell'algoritmo nei miei confronti, ma per fortuna stiamo procedendo con gli avvocati per chiarire le cose con questi fact checker che hanno il vizio di premere il pulsante sbagliato con la persona sbagliata e quindi faremo pagare di questo a chi di dovere. Detto questo però torniamo seri sulla notizia. Il sindaco Sala di Milano, parlando di buche per strada, sapendo che c'è un problema e che tanta gente, i milanesi, si stanno lamentando per la situazione, cosa hanno deciso di fare? Intanto vediamo se, vedo la diretta, vediamo, scusate un attimo che cerco anch'io la diretta e in verità non la trovo, non la trovo incredibile. Ciao Roberto Giuliani, ciao Frank, ma io ci sono, però effettivamente non si vede, vedo, guardate, incredibile, Facebook un collegato, un collegato. Quelli che ci sono sono su YouTube, Facebook un collegato. Questo per farvi capire il livello di ban che c'è, ma procederemo di conseguenza. Perché vedete, io adesso faccio vedere i pidini, parlando dei pidini, loro dicono nascondiamo la notizia che è una strafigura di merd, è una strafigura di merd e quindi giustamente farò bene a nasconderla. Però la notizia dice, guardate, pensate cosa ha il coraggio di dire, il sindaco Sala e l'emergenza buche, colpa purtroppo del cambiamento climatico, dobbiamo abituarci. Milano, il primo cittadino spiega che c'è un grosso impegno da parte del comune per la manutenzione delle strade, che a febbraio le piogge record, dopo un periodo di siccità, hanno fatto saltare di fatto tutte le strade. Comica più totale. Milano 19 marzo 2024, notizia di ieri pomeriggio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala è tornato a parlare dell'emergenza buche nelle strade della città. Lo ha fatto durante la diretta Instagram. Cose in comune, no? Questa settimana è dedicata proprio al tema della manutenzione stradale dopo le polemiche sollevate per le scorse settimane. Io ho tanti amici di Milano e tutti, ve lo assicuro, tutti si stanno lamentando per questa indecenza. A questo punto io non vado avanti in quello che ha raccontato, perché ne ha raccontate di mille, può raccontare quello che vuole, parla di 280 mm, sono scesi di pioggia piovane in pochi secondi, quindi in pochi giorni, quindi 20 volte l'acqua di questo periodo. Ok. Secondo voi, veramente la domanda è questa, la diretta si chiude con una domanda e vorrei i commenti risposti. Intanto quelle di YouTube vi chiederei di iscrivervi al canale di YouTube, sto spostando, migrando il pubblico su YouTube dato il comportamento di Facebook, quindi vi chiederei di iscrivervi al canale di YouTube, la domanda è più che lecita. Buche per strada, come dice Sala, dovute al cambiamento climatico o dovute ai materiali schifosi usati, agli appalti dati magari a cooperative pittoresche o ai lavori fatti male, ipercostosi, che si prolungano per troppo tempo? A cosa sono dovute secondo voi? Mettetelo nei commenti veramente le buche per le strade di Milano, la situazione stradale devastante del comune di Milano? Come dice il sindaco del PD Sala, al cambiamento climatico? Oppure a tutto il resto, tutto il resto che lo sappiamo bene? Ditemelo nei commenti. Detto questo vi saluto, una piccola notiziola simpatica, mi piacciono queste barzellette targate PD, sono veramente favolose. Un saluto a tutti e ciao soprattutto agli amici di